Allora, stasera, oggi è il 14, mancherebbero tre giorni all'esame di italiano di Luis Suarez. Se stiamo all'indiscrezione della Gazzetta dell'altro giorno in risposta al dubbio sollevato e relativo ad una sessione del 22 con scadenza di iscrizione del 17 di agosto, se stiamo quella indiscrezione, ci sarebbe questa sessione speciale, il 17, nella quale appunto Suarez si presenterebbe addirittura fisicamente alle 10 del mattino all'Università per Stranieri di Perugia. Rinnovo l'appello a chi mi ascolta da Perugia, spero ci sia qualcuno da quelle parti, armatevi di smartphone, tanto ormai adesso il giornalismo si fa così, anche per strada è molto più reale casereccio, diciamo così, e quindi presidiate l'Università per Stranieri di Perugia dalle 9 del mattino in avanti, è sempre bene quando c'è un appuntamento portarsi lì minimo un'ora prima, perché non si sa mai presidiare ingresso principale, ingressi eventualmente secondari, insomma fate un po' i detective, no? fate che non c'è bisogno che ve lo dica io, anche perché sarebbe un bello scoop, ok? perché poi si tratterebbe della prova effettiva che Luis Suarez sosterrà l'esame in quella data e fisicamente lì, potrebbe anche sostenerlo online a sto punto, è chiaro che qualunque intervento diretto, fisicamente diretto, ad accertare la presenza di Suarez salterebbe, sarebbe totalmente inutile, però se qualcuno ha un po' di tempo da perdere, per carità è giorno lavorativo, però se qualcuno ha un po' di tempo da perdere e vuole così verificare personalmente questa situazione, bene che lo faccia, secondo me più di uno lo farà. sì, allora sento dire, beh però anche se passa l'esame non è... no, allora se passa l'esame è la condizione necessaria, si tratta poi di tempi burocratici, però è chiaro che la questione del tesseramento verrebbe superata, non il se ma il quando eventualmente ci sarebbe da chiedersi, ma sarebbe superata nei termini, perché altrimenti tutto sto a un baradà qua dell'esame non avrebbe avuto senso e non avrebbe senso, quindi è chiaro che questa è la condizione necessaria e poi ci sono i tempi per il rilascio del passaporto comunitario, però a questo punto Suarez è tesserabile. Quindi, così sarebbe risolta la questione. Io però vedo molto brancolare nel buio, vedo molto brancolare nel buio in tutta questa vicenda, ma un po' tutti lo stiamo facendo, adesso onestamente non è che qua ci sia qualcuno che è depositario della verità assoluta, perché effettivamente la situazione è questa in questo momento, cioè, allora, posto che non è il tormentone dell'anno scorso su Guardiola, ma mentre l'anno scorso ero sicuro che Guardiola non sarebbe arrivato alla Juve e ne avevo fatto quasi una battaglia personale, perché molti mi facevano una loro battaglia personale contro, ma semplicemente anche perché ero sicuro di quello che stavo dicendo ed ero sicuro che sarebbe arrivato Sarri, beh, quest'anno nemmeno io sono sicuro di quale sarà l'attaccante che arriverà alla Juventus. Perché? Ma perché c'è molta incertezza anche da parte della Juventus che sta tenendo il piede in più scarpe giustamente, giustamente, perché se te ne scappa uno arriva quell'altro, o quantomeno provi a far arrivare quell'altro, se ti scappa quell'altro magari ce n'hai un altro ancora, Suarez, Dzeko che è tornato abbastanza in auge e Alvaro Morata, però effettivamente la Juve non ha ancora preso una decisione definitiva, non c'è una decisione definitiva. Voi mi direte, beh, ma questo è preoccupante, io vi rispondo un po' sì, un po' sì, a sei giorni da inizio del campionato, un po' sì, però è proprio una questione di tempi burocratici, nel senso che, insomma, si tenta tutto e per tutto per Suarez, dopodiché, sempre che gli altri siano d'accordo, ci sarà un'eventuale virata, ma l'attaccante arriverà, anzi due attaccanti, secondo me, due attaccanti arriveranno. E a tal proposito, adesso io non voglio farmi il portatore di battaglie o di campagne, tipo campagne elettorali, eccetera, però l'anno scorso, diciamo così, avevo buttato lì il salvato il soldato Higuain e tutto sommato, insomma, ci avevamo azzeccato, molti di voi mi avevano seguito in tutto questo. Quest'anno io ve ne butto lì un'altra, prendendo però spunto da qualche vostro suggerimento, perché siete bravi e intelligenti, e devo dire che nemmeno io ci avevo pensato, nemmeno io ci avevo pensato, perché non proviamo a salvare il soldato piazza? Proviamo a salvare il soldato piazza, che ne dite? Perché ragazzi, allora, al di là di tutto, questo giocatore è arrivato con ottime credenziali, ha avuto la sfortuna di farsi male in quella partita sciagurata con la sua nazionale, in un'amichevole giocata su un campo di patate, negli ultimi minuti del primo tempo, poi tra l'altro, no? Quindi doveva per forza andare così, doveva andare così, doveva farselo quel crociato. Ha subito due operazioni, non una ragazzi, due operazioni, perché la prima non era andata benissimo, la prima non era andata benissimo, hanno dovuto riravanarci dentro qualche mese di distanza, però è un giocatore che attualmente ha solo, beato lui, 25 anni, 25 anni, quindi primo step passato, l'età, per abbassare la media, guadagna meno di 3 milioni lordi l'anno, è un milione e mezzo netto, è meno di 3 milioni lordi l'anno. Secondo step, ampiamente superato, tetto in gaggi. Poi parliamo di lui anche tecnicamente, è un ottimo giocatore ragazzi, sa toccare la palla molto bene, poi mi nasce, perché è bello dire così, mi nasce non propriamente attaccante centrale, ma come dire, usando una vecchia espressione, ha la sinistra, ok? Ma sa giocare anche da attaccante centrale, sa anche fare perché è stato provato, è stato impiegato anche lì, forse il nazionale, addirittura da trequartista, però lasciamo stare questo ruolo che non c'è nella Juve di Pirlo, almeno attualmente. E quindi può essere un ottimo attaccante, può essere il famoso quarto attaccante di cui la Juve ha sicuramente bisogno, è un costo interno, non hai bisogno di sborsare danaro e soprattutto hai un buonissimo giocatore, che adesso sta anche bene fisicamente. E allora mi dico, perché non puntare, non ovviamente come attaccante principale, lui era arrivato alla Juve per essere un giorno impiegato così, diverse vicissitudini, situazioni di mercato, la situazione fisica, eccetera, lo ha portato ad essere ai margini di un progetto. Io oggi ho detto nel mio servizio su Italia 1, è un nome che ricorre sempre in estate e del quale ci si dimentica poi nelle altre tre stagioni dell'anno. Vediamo di pronunciarlo per quattro stagioni, come la pizza, per quattro stagioni, e vediamo che rendimento può avere questo ragazzo. L'anno scorso ha fatto uno scampolo di partita di Coppa Italia, se non vado errato, e tra l'altro si è mosso pure molto bene, con una certa autorità, perché la personalità non gli manca. E allora ragazzi, perché non puntare su un giocatore così, o comunque tenertelo lì, tenertelo lì, perché ti fa risparmiare e magari ti fa pure guadagnare dal punto di vista tecnico, perché si sta parlando di un giocatore dei piedi buoni. E poi, magari lo valorizzi pure e un giorno lo puoi rivendere anche a delle cifre più ampie di quelle che si ricaverebbero adesso. Ma questo è un altro discorso. Quindi, puntare su piazza, perché no? Da parte di Andrapirlo, che oggi ha conseguito il patentino UEFA Pro, quindi può allenare qualunque squadra al mondo, quindi ha fatto uno step in avanti e credo che possa tenere ampiamente in considerazione questo ragazzo. Ok? Quindi, almeno da questa parte la Juventus si sarebbe cautelata, poi resta sempre aperta insomma la questione. Quindi contro la Sampdoria c'è questo forte rischio di non avere a disposizione una punta centrale, però magari ti puoi buttare una mischia a piazza, che so io, a venti minuti alla fine, a mezz'ora dalla fine. Deciderà eventualmente il donatore, sempre che in questi giorni di mercato non venga nuovamente Porello dirottato in un'altra squadra a farsi ancora le ossa? Eh, si è già fatta, sono tre anni che si fa le ossa. Prima si è fatto il crociato due volte, una volta con due interventi. Adesso basta farsi le ossa ragazzi, mi sembra un giocatore sul quale la Juve può fare eventualmente affidamento. Quindi contro la Sampdoria magari c'è anche lui, ma non ci sono gli spettatori. Ma se leggete tra le righe, è vero c'è stata abbastanza indignazione perché in alcune partite si sono visti spettatori a Piacenza-Sampdoria, in Liga, ma in Italia, allora, per una manifestazione occasionale si può ricorrere al top numero di spettatori. La partita di campionato non è una manifestazione occasionale, è una manifestazione che fa parte di una competizione duratura nel tempo e quindi viene a mancare l'occasionalità che può avere ad esempio un amichevole e crolla un po' il discorso. Poi è vero che vedi che in Francia la situazione è molto peggiore della nostra eppure c'erano mille spettatori, Paris Saint Germain, Olympique Marsiglia, partita valida per il fair play, cinque espulsi, parolacce, offese, eccetera, va bene, questo è un altro discorso e allora dice ma perché, no, ma perché, perché viene a cadere questo, ok, e poi perché se fosse, ho alzato il tono di voce, se si fosse, dopo l'abbasso, ve lo dico perché l'abbasso, non l'avete già capito perché l'abbasso, perché se avessero concesso una vera gala Juve, eccoli lì i soliti, i soliti manovratori, i soliti che si fanno le leggi ad hoc perché comandano loro, perché sono arroganti, perché sono presuntuosi, perché sono ladri, perché giù, perché su, perché qui, perché là, è meglio così, ragazzi, meglio così. Adesso parlo sottovoce perché il Manchester United è interessato a Douglas Costa ed è vero, il Manchester United è interessato a Douglas Costa ed è vero, però non attaccateci Pogba dentro, mi raccomando, ma lo United è interessato a Douglas Costa ed è vero, ciao. Anzi, ciao, al prossimo video, ciao.